In questo periodo di emergenza sanitaria ci sono moltissime persone che hanno subito delle decurtazioni economiche nel loro bilancio familiare, quindi fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Importantissima in questo senso è l'operato della Caritas Diocesana che tramite l'opera di moltissimi volontari si sta dando da fare in questo periodo per venire incontro alle esigenze di queste persone. Chiediamo ad Andrea Baracchino, direttore della Caritas, che cos'è l'emporio solidale e come funziona questa realtà della Caritas Diocesana. È un negozio di quartiere nella quale le persone che sono segnalate dai centri d'ascolto delle Caritas parrocchiali dalla Croce Rossa, dalla Chiesa Battista e dalla San Vincenzo possono andare a fare la spesa normalmente attraverso delle tessere appunti. Chiaramente nell'ultimo periodo abbiamo avuto una crescita in soli 15 giorni di oltre il 30% delle domande e siamo passati da 150 nuclei familiari a 200 e gli ultimi dati ci attestiamo intorno ai 220, quindi c'è stata una crescita soprattutto per le persone che non potevano accedere ai moni spesa dei comuni, ai moni spesa dello Stato. Come può accedere il cittadino in difficoltà all'emporio solidale? I canali sono sempre quelli delle parrocchie, della Croce Rossa, della Chiesa Battista, e i punti insomma ad ascolto che ci sono. Chiaramente in questa fase i contatti avvengono preventivamente e telefonicamente e un po' l'assetto si è ricalibrato perché non era più possibile fare i colloqui come venivano fatti prima. Come funziona la locanda, il servizio della Caritas diocesana destinato ad ospitare i senza tetto? La prima cosa che si è fatta è stata alleggerire mettendo una parte di queste persone o in stanze di albergo o anche presso la Madonna Pellegrina. Questo anche per permetterci di garantire eventuali problemi legati a eventuali positività all'interno. Poi si è aperto in una prima fase sulle 19 ore, quindi dal pranzo fino alla colazione, è attualmente aperto sulle 24 ore, per cui si dà la possibilità alle persone di stare all'interno per tutto l'arco della giornata. Per quanto riguarda il che cosa si succederà, questo dipenderà anche molto da quali saranno le linee guide e da quali saranno anche appunto i bisogni che verranno qua, insomma, perché ci dovesse essere una crescita di domanda, non possiamo pensare di continuare a rimanere a numeri così ridotti all'interno. Quindi rigestire, ricominciare a riportare dentro persone, però tutto questo garantendo la sicurezza sia di chi sta dentro e sia di chi opera, quindi operatori e volontari che sono all'interno. Questa è un po' insomma la sfida che ci attende adesso. Come funziona in questo periodo di emergenza sanitaria l'accoglienza a Casa Madonna Pellegrina? La casa è piena, abbiamo soltanto tenuto a disposizione uno spazio per gestire eventuali quarantene qualora ci fossero stati dei casi che per ora fortunatamente non ci sono stati. Chiaramente anche qui si tratterà nel corso delle prossime sei settimane di vedere in che modo riaprire all'accoglienza perché in questa fase ovviamente l'accoglienza di persone nuove è stata bloccata. Grazie. 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 Grazie.